Un centro tecnologico all'avanguardia, realizzato grazie a un investimento di 15 milioni di euro, che si inserisce, è stato detto, nel più ampio piano di crescita e sviluppo continuo e di investimento che Alfa Sigma sta portando avanti nei suoi laboratori e linee produttive. È stato inaugurato oggi, infatti, alla presenza del Presidente della Regione Abruzzo, Marsiglio, il nuovo reparto sterile 4 del sito di Alanno, che occupa circa 400 dipendenti, più di 1.000 m2, il 30% degli spazi riqualificati. Sono solo alcuni dei numeri forniti dai vertici dell'azienda, nata 40 anni fa, dedicata alla produzione dei farmaci da prescrizione da banco. Giandrea Favetti, responsabile Operations, stabilimento all'anno di Alfa Sigma. Oggi sì, è una giornata speciale per tutti noi dello stabilimento, perché inauguriamo un nuovo reparto iniettabile, il reparto sterile 4. Questo progetto è un progetto importante perché permetterà, allo stabilimento, nuove capability, quindi andremo a produrre un farmaco iniettabile, quindi siringhe pre-riempite e siamo stati recentemente approvati dall'Agenzia Italiana del Farmaco per la produzione di prodotti immunologici, quindi significa vaccini. Vaccini anche anti-Covid? Vaccini anti-influenzali e poi il futuro vedremo. Sicuramente è un buon punto di partenza, quindi questa autorizzazione darà sicuramente allo stabilimento nuove opportunità. Il reparto sterile 4 precisa che rispecchia i requisiti dell'industria 4.0 è strategico in termini di business aziendale per la produzione di siringhe pre-riempite per nuove opportunità. La riempitrice automatica installata all'interno del reparto sterile 4 è in grado di lavorare fino a 36.000 siringhe l'ora. Esportiamo prodotti in tutto il mondo, quindi siamo presenti su 5 continenti e copriamo circa 70 paesi. farmaci importanti che vengono prodotti qui? Sì, farmaci importanti, farmaci etici, ma anche farmaci da banco. È stato sottolineato il rapporto con l'Università dell'Aquila e il presidente Marco Marsiglio esprime soddisfazione in un momento di crisi per questo fiore all'occhiello della regione che sa creare produzione e lavoro. Un momento importante, un'importante industria abruzzese in un settore, quello farmaceutico, dove l'Abruzzo già esprime dei distretti produttivi molto importanti. Per noi è sicuramente un bel segnale il fatto che queste importanti aziende scelgano il nostro territorio per investire. non è scontato perché si tratta di aziende localizzate in diverse parti d'Italia, d'Europa, a volte anche del mondo intero, quindi la competizione fra territori per attrarre gli investimenti e per potenziare gli impianti è molto forte e quando assistiamo appunto al potenziamento degli impianti abruzzesi vuol dire che stiamo dimostrando che l'Abruzzo può essere competitivo e può vincere questa sfida. Tra l'altro si tratta di un'azienda che esporta in tutto il mondo. Proprio per questo sottolineavo questo aspetto perché non si tratta di una piccola realtà che ha delle ragioni particolari per doverlo fare per forza in Abruzzo. Si tratta di grandi aziende che possono scegliere altrove, spesso lo fanno anche in ragione della maggiore competitività di alcuni territori, del minore costo del lavoro e così via. Se lo fanno in Abruzzo è perché in Abruzzo c'è una grande competenza, c'è un grande patrimonio anche di risorse umane dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, un terreno fertile che consenta ad imprese a elevato valore aggiunto come è quella farmaceutica di poter lavorare qui e di poter fare prodotti di assoluta qualità.